Vuoi concederti quel gioiello che volevi da sempre ad un prezzo conveniente? Devi fare un regalo importante e vuoi qualcosa di speciale? I gioielli sono emozioni che solo le migliori marche ti sanno dare e noi di ReLusso lo sappiamo bene. Se vuoi un prodotto di alta qualità ad un prezzo senza eguali, da ReLusso troverai quello che cerchi. Siamo l'unica gioielleria italiana specializzata nella vendita di alta gioielleria rigenerata. Ci distinguiamo per l'esclusivo trattamento rigenerante Luxury Gen che riporta l'usato a nuova vita. Un prezzo ribassato rispetto al listino del nuovo delle più famose Maisons di gioielli con sconti fino al 40%. Una grande varietà di articoli come troveresti solo in un negozio monomarca. La possibilità di pagamento rateizzato senza alcuni interessi. Se ami l'alta gioielleria, vieni a trovarci. Troverai gioielli esclusivi a prezzi convenienti, ma sempre e solo di alta qualità. Visita il nostro sito o la nostra pagina Facebook e scegli il gioiello che più desideri. ReLusso. Alta gioielleria rigenerata. ReLusso. Alta gioielleria rigenerata. ReLusso. Alta gioielleria rigenerata.